Mulinex presenta Maria e Gianna, due donne con gli stessi problemi. Così non si finisce mai di pulire. Fatelo con Mulinex, viene meglio. Si monta e si smonta in un attimo. Pulisce mobili e pavimenti. Pulisce dappertutto. È meraviglioso lavorare con Mulinex. Aspira polvere a 5950 lire. Sono sempre umidi. Fatelo con Mulinex, viene meglio. In poco tempo i capelli sono perfettamente asciutti. Asciuga capelli a 2950 lire. Mulinex vi aiuta in casa e in cucina. Trita carne, macina caffè, grattugia formaggio, spremi frutta, frullatore. Fatelo bene, fatelo con Mulinex. Mulinex.